Sì, io mi fermo qui E questo credo che sia il regalo più bello per i bergamaschi, per tutti i tifosi d'Atalanta Gli hai sentiti i cori, li vivi ogni volta, ma soprattutto credo che hai sentito il vero affetto dei bergamaschi Quindi non c'è bisogno di dirlo Questo non mi è mai mancato, devo dire la verità, in questi anni non ho di sicuro sofferto per la mancanza dell'affetto che mi ha sempre circondato da parte di tutta la città, di tutti i tifosi E questo è un legame comunque sempre fortissimo Ed io ho una curiosità, ma il 22 maggio, prima di chiudere gli occhi e addormentarti dopo i balletti col Presidente sulle sedi e la cena Che cosa hai pensato, quell'attimo prima di dire adesso dormo? Ma insomma, c'era grande felicità, questa sì, grande gioia da parte anche di tutta la squadra, tutti i giocatori Era molto, da parte mia un sentimento soprattutto di felicità per vedere così tanta gioia nelle persone Nei tifosi, nel Presidente, emozionatissimo E anche dei giocatori sono stati gli interpreti di questa grandissima impresa Sei di casa ormai all'Accademia dello Sport Hai ricevuto il Golden VIP l'anno scorso Quest'anno riceverà un tuo allievo, Giorgio Scalvini Bellissimo, sono contento per lui Anche perché, insomma, è giovanissimo già prendere un premio così prestigioso E poi se lo merita perché è comunque un'espressione importante di questo Atalanta Un ragazzo cresciuto fin da bambino in questa società E che è arrivato a toccare i momenti più alti di questa squadra Ma le asticelle esistono nel mondo del calcio Oppure le asticelle sono quelle di lavorare col sorriso, divertendosi E cercando di arrivare sempre, in effetti, a dare spettacolo anche in campo A segnare quel gol in più dell'avversario Quella è la base La base è che ognuno deve cercare di fare bene Di lavorare al meglio sempre nella vita La vera vittoria è quella È quella di lavorare sempre bene Di fare le cose bene Di essere felice di quello che fa Poi i riconoscimenti che ti danno gli altri Sono indubbiamente importanti Ma la vera vittoria è quella che ognuno deve trovare in se stesso Ormai con i cori ci si sprega Adesso c'è già la giunta anche di Varsavia Ce ne andiamo tutti a Varsavia o Lepar Ormai hai raggiunto talmente tanti traguardi Cosa ti è rimasto da visitare come capitali? Ebbene insomma dai ne abbiamo ancora di buone da andare a trovare Speriamo, è chiaro che la vincente ci auguriamo che sia Real Madrid Ma non per il Borussia Dortmund che abbiamo già incontrato Tra l'altro anche Real Però fare una finale di Supercoppa Europea con Real Madrid È quanto di più prestigioso possa esistere Allora questo signore tra l'altro ha un cuore enorme Perché abbiamo fatto una serata pochi mesi fa E con dieci bottiglie siamo riusciti a raccogliere un incasso fantastico all'asta Per uno dei progetti di academia veramente importanti Anche questo ti contraddistingue No, il cuore enorme è di quelli che hanno contribuito e che hanno dato delle risorse Sì, ma se le firmavo io non prendevamo tanto Però bisogna dare merito assolutamente Perché a Bergamo ci sono veramente tantissime persone Che lavorano, che aiutano, chi ha bisogno E questa dell'accademia è sicuramente l'espressione più grande e più bella di Bergamo Questo signore so che ti vedi spesso Qui sei di casa e adesso Giovanni Credo che ci sia da consegnare anche qualcosa Tanto per colpo mia sono arrivato tardi No, eri in mezzo ai ragazzi ancora Era ancora a Zinconia Noi pensavamo di aver finito Ma non è così Abbiamo ancora questa settimana Pensavamo già di essere in vacanza Invece dobbiamo ancora giocare a questa partita Che per noi qualcosina conta ancora Arrivare terzi è bello Visto che dobbiamo giocare, ci proveremo